La medicina estetica negli ultimi anni si sta aggiovando della esperienza di numerosi anni di attività e di grandi varietà di materiali messi a disposizione del medico. Abbiamo l'acido ialuronico, ormai la fara padrone della medicina estetica, ma i nuovi prodotti che mettono a disposizione, il mercato e ciò che le vite ci mettono a disposizione, offrono ormai delle caratteristiche uniche e strabilianti che permettono un'idratazione profonda della cute senza stravolgere le caratteristiche volumetriche, senza stravolgere i lineamenti del paziente. E questo va incontro sempre di più alle richieste attuali che noi abbiamo di una medicina estetica che attraversa trasversalmente tutta l'età, partendo anche dalla giovanissima età, delle teenager o di persone che hanno a che fare con una vita sociale molto spinta e molto accelerata, che non vogliono incappare nei danni dell'età, dell'aging. Quindi attraverso una corretta correzione degli stili di vita, che deve essere alla base della medicina estetica sempre, una correzione leggera, non volumetrica, ma con una buona idratazione del sottocute, permette di preparare la nostra cute allontanando le rughe nel tempo. In questo modo noi possiamo spostare in avanti le correzioni volumetriche nell'età del paziente e fare una medicina estetica che è una medicina di prevenzione e non solo di correzione.